Ciao mister, Trapattoni ha detto che sia tu che Walter Zenga siete due predestinati, ti senti tale? Ma non lo so, io mi sentivo, Walter non credo, poi è diventato, ha fatto anche il costino da Maria De Filippi, prima di diventare allenatore ne ha fatta distratta, quindi forse ha più valore il suo, non lo so, a parte le battute, io lo dico sempre, ma il costino gli darà a fare, comunque è bello perché insomma, non si può così, ma gli ha detto le battute, abbiamo vissuto tanti insieme, poi lui è stato grande, arrivano che nazionali, che dire, Giovanni è stato uno dei nostri maestri, poi, ripeto, trasforma, fa le cose che crede, nella gestione, nel gruppo e tante cose, però sicuramente che Walter va a essere allenatore io non ci avrei mai commesso una lira.